La rotatoria tra le vie Redentore e Messina è finita al centro di un vero e proprio dibattito sui social. Da più parti si auspica che vengano tolti i cosiddetti panettoni, che delimitano la stessa rotatoria temendo incidenti. Altri puntano l'attenzione sulla scarsa attenzione di diversi automobilisti che percorrono la strada in questione. Sul tema si registra l'intervento del consigliere comunale Salvatore Petrandoni. E trattandosi di un argomento di competenza della Polizia Municipale di Caltanissetta abbiamo intervistato il comandante Diego Peruga. Non ci vuole niente a capire che qualche cosa lì non va. Se la rotatoria, come ho potuto spiegare, con dovizie di particolari, anche perché è questo che faccio di mestiere, risulta essere piccola rispetto all'intersezione, quindi la circonferenza dovrebbe essere ovviamente più ampia, spiegando tra l'altro che esiste un problema nei nostri veicoli che è la angolo cieco, angolo morto, come lo si chiama volgarmente, che prevede appunto il fatto troppo che il conducente nel girare in quella intersezione, in quella rotatoria, ma comunque anche in altri ostacoli che sono bassi, in alcuni momenti per istanti non riesce a vedere una parte del proprio veicolo e questo chiaramente porta degli incidenti a deneggere il proprio veicolo. Sulla rotatoria di via Redentore, nello specifico, si è corso ai ripari probabilmente, non ultima quello di installare questi famosi panettoni, così come si chiamano, che non sono altro che dei dissuasori di sosta, tant'è che non vanno assolutamente installati in piena rotatoria, ma vanno da altre parti. Chi utilizza quel tratto di strada continua ad effettuare la svolta in maniera non corretta, addossando troppo il veicolo alla struttura e non mantenendo il principio della destra rigorosa, oltre alla non osservanza dei limiti di velocità, perché riteniamo che molte di queste manifestazioni, di questi incidenti che vengono denunciati sui social sono il frutto di un utilizzo della strada senza osservare quelli che sono gli ordinari limiti di velocità. Questa è l'analisi che facciamo noi. Mi corre l'obbligo di evidenziare questo. Gli incidenti statali vengono nell'ambito del centro abitato, nella quasi totalità, rilevati dalla Polizia Municipale. Nessuno dei soggetti che ha danneggiato la struttura ha chiesto il nostro intervento, non c'è una richiesta di intervento della Polizia Municipale. Quindi riteniamo che chi si è reso responsabile di questi danneggiamenti ha la piena consapevolezza di aver utilizzato l'area di intersezione in maniera non corretta e si è allontanato dal posto senza richiedere il nostro intervento, anche perché sarebbe stato sanzionato per il danneggiamento dell'opera stradale. Riteniamo che la collocazione sia necessaria di questa struttura. Di recente l'abbiamo rafforzata con questi dissuasori allargando un po' l'area di intersezione da non utilizzare, quindi restringendo ultimamente quella che è la sede stradale invece utilizzata per il transito dei veicoli. Ma abbiamo notato che non si incidenta più, non si investe più il palo, ma si inizia ad incidentare il panettone, il dissuasore di sosta o comunque di protezione in questo momento alla struttura. Anche questa situazione viene attentamente monitorata e stiamo adottando una misura che porta anche ad evitare che gli eventuali dissuasori o protettori del palo vengono danneggiati e poi possono riversarsi sulla sede stradale e quindi stiamo pensando a una qualche fascia metallica che possa in qualche modo contenere la loro posizione come quella in atto disposta.